Il rischio di spopolamento del nostro territorio Le faccio subito questa domanda. 4.000 abitanti in meno, come abbiamo rilevato questi numeri? Allora, io posseggo un mio archivio personale di dati perché ritengo che bisognerebbe lavorare sui dati in un parco. Secondo me lo stesso piano del parco non ha fatto questo. E quindi noi viviamo nel puro limbo delle idee astratte e confuse, io dico. E quindi ovviamente non capiamo in che mondo ci troviamo. Per cui quando lancio quest'allarme, oramai lo faccio ogni anno, ai primi di gennaio perché tu possiedi i dati demografici fino al 2017, l'anno precedente, e quindi puoi dare un'occhiata per capire che cosa è successo. E che succede? Che continua, inesorabile, un fenomeno nel Cilento. Che ci sono flussi migratori dalle zone interne in due direzioni. Un poco verso la costa e un poco verso il mondo, insomma, come è sempre capitato. Sul dato della costa rifletterei perché i circa 4.000 abitanti che abbiamo perso, non so quanti siano finiti proprio sulla costa, sì, qualcuno sì, ma la costa poi si riempie anche degli abitanti di Napoli, di Salerno, che hanno le seconde case in Lanca, ma che di fatto sono turisti estivi più che abitanti. Sì, no? Anche se molto probabilmente potrebbero anche venire ad abitare. Ma insomma, voglio dire, il dato è ancora più preoccupante di quello che sembrerebbe a prima vista. Ma perché? Perché ci sono alcuni paesi che hanno perso oltre il 50% della popolazione dal dopoguerra d'oggi. Se non sbaglio, sacco addirittura il 70%. Sì, supera il 70%, cioè da 1.750 abitanti, a rotondo la cifra, a 1.400 e dispari, insomma, significa che tu oggi in un paese così hai fin anche la difficoltà a metterci un bar. No, mi fa ridere perché poi, voglio dire, tutti i sindaci, io quando ho fatto i sindaci li ho sempre sentiti, avevano un solo problema, la zona D, quella dove si deve costruire. Ma nessuno si occupa dell'enorme patrimonio edilizio che è stato abbandonato, che è vuoto. Basta fare un giro nei paesi, noi abbiamo un enorme patrimonio vuoto e nessuno se ne occupa. Di fatto, voglio dire, gli stessi sindaci di questi comuni, che sono tanti oramai, no? Perché, voglio dire, non è che c'è solo Serramezzana o Campora, ma c'è Aguara, Bello Sguardo, a Teggiano, dicevo l'altra sera a Teggiano, eh sì, 4.000 abitanti persi, ma voi ne avete perso quasi 400. Cioè, un centro come Teggiano, no? Voglio dire, cioè, in un centro come Teggiano accade che per ogni 100 giovani ci sono 222 ultra 65 anni. Ecco, ma secondo lei ci sono delle responsabilità? A me piace avere un approccio sistemico ai problemi. Ci sono varie responsabilità e la soluzione è complessa. Cioè, ma siamo alla vigilia della campagna elettorale, per cui è facile accusare la politica, che sicuramente è chiamata a fare la sintesi e a prendere dei provvedimenti. Però io credo che ci siano delle responsabilità diffuse, che poi ovviamente sono più o meno grandi, nel senso che se tu l'hai la responsabilità a tutti, significa che non ce l'ha nessuno. Però io credo che tutti siamo chiamati a fare uno sforzo, perché se no non ne usciamo. Cioè, mi spiego meglio. È vero che il parco dovrebbe avere un ufficio studi, ma uno che, un giovanotto che si piglia i dati come ve li piglio io in mezz'ora, o che fa l'elenco, che debbo dire, dei musei, no? Che non è stato, che non è stato, non c'è mai stato nel parco un elenco. Ma perché, mi chiedo, no? Non so, voglio dire, sono cose stupide queste qua. Ma avete dei musei. Ma cioè, ma come si, cioè, qui c'è quello che predomina, è un pensiero premoderno, no? Dove i dati non servono. È chiaro, no? E poi Galileo ci fece accedere alla modernità dicendo che la natura è un grande libro che si conosce però con la matematica, insomma. Quindi, da allora in poi sono cambiate tante cose, anzi andate in crisi, fino anche ai pensieri di Galileo da certi punti di vista, ma noi ancora niente, proprio, insomma. Quindi, perciò dico, c'è un problema di cultura diffusa. Cioè, i problemi si agitano, ma non si studiano, non si approfondiscono e poi non si affrontano. E si continuano ad agitare propagandisticamente. E purtroppo queste cose non le fa solo la politica. Cioè, allora, io pongo, diciamo, tre grandi problemi. Il primo problema è che il parco è un sistema ad alta intensità di conoscenza. Cioè, tu fai un parco e in quel momento stesso ti assumi un gomito che è quello di conoscere ancora di più la realtà. E tra i primi punti di questa conoscenza c'è un sentimento che è il voler bene alla terra. Mi rubo uno slogan di Slow Food, no? Cioè, che significa voler bene alla terra? Significa, fondamentalmente, capire com'è fatta la vita della terra. Cioè, se nella terra ci sono, pensati, in un ettaro di terra c'è qualcosa come almeno cinque quintali di batteri, funghi e microfauna. Cioè, tu metti i piedi su cento pecore quando vai in un terreno, no? Allora, ma ci rendiamo conto che noi siamo la prima generazione che attraverso vangatrici, frese, veleni, concimi chimici ha triturato la vita della terra, no? E l'ha avvelenata. E oggi, vedi, io non parlo per fatto ideologico, no? Perché sono un ambientalista. No, io parlo date di fatta alla mano. Cioè, questo sistema, oggi, io lo vedo, ne abbiamo, tieni conto, quasi 400 soci. Ci sono molti soci che hanno la testa dura, perché voglio dire, quindi non è che io voglio attribuire alla politica solamente, c'è pure la testa dura, no? Pure io ce l'ho così, ma insomma. Ma che non producono più. Non producono neanche un'oliva. Cioè, in questo momento, per farti capire, noi viviamo in un territorio che per otto mesi non ha visto una goccia d'acqua e che quindi ha visto bruciare la sostanza organica dei suoli. Dopodiché, nessuno misura quanta sostanza organica è sparita da questi suoli. Poi arriva l'annata olivicola e uno dice, ah, è colpa del vento, un altro dice, no, ma quella non è piovuto molto, un altro dice che l'annata, cioè... Quindi non c'è una conoscenza del territorio. Ma no, poi fra l'altro la cosa più ridicola, sai qual è? Che nel 2000 anni fa, no? Un tale che si chiamava Columella ha scritto un libro sull'agricoltura e comincia questo libro proprio così. Voi date la colpa al vento, all'acqua, all'annata e ibrica che voi non sapete coltivare. Cioè, allora, amare la terra significa andarla a comprendere, significa a questo punto non stravolgere i sistemi complessi che da soli hanno sempre, in milioni di anni hanno prodotto animali, piante, senza che nessuno le ha mai coltivate. Voglio dire, partiamo da questo dato, no? Per arrivare poi a capire quando noi andiamo a tagliare, cioè a desertificare la terra, poi che cosa ne viene, no? Di fatti poi nei sistemi più evoluti degli Stati Uniti, dell'Europa, della pianura patana, è iniziata una riflessione su questo e anche diversi sistemi di coltivazione. Noi stiamo affrontando come cooperativa il problema della meccanizzazione dei terreni di colline e di montagna, di cui nessuno si occupa. Cioè la Campania ha l'85% dei terreni di colline e di montagna e trovami uno che ha spinto una riflessione in questa direzione. È perché chiaramente ci sono particolari problemi di meccanizzazione da risolvere, ma voglio dire, sulla mia esperienza personale, dice che anche gli industriali, noi abbiamo fatto fatica a convincere degli industriali a farci delle macchine per noi. Per la verità, diciamo, stiamo ottenendo successo, anzi, dico di più, che noi stiamo continuando questo lavoro e produrremo ancora altre novità fra qualche mese. Ma voglio dire, ma se moriamo però io e Angelo e Napoliel che siamo pensionati, si chiude il discorso, ma noi non è che ne abbiamo ancora per molto. Quindi, insomma, voglio dire... Lei boccia l'attuale governanza del parco, professore. Ma ripeto, non è che me la voglio pigliare con loro, perché io ho visto i sindaci... No, ma voglio dire, poi questa cosa l'abbiamo vissuta insieme con il problema dell'acqua, no? Tu metti l'acqua nei tubi rotti, eh, figlio mio, eh, eh, e tu t'abbia, ma insomma... Però questo si sta facendo da 50 anni, ma nessuno se ne occupa. Cioè, capisci... Beh, è facile dire il Presidente o il Vicepresidente o qualche... Cioè, certo che se il parco non si occupa di suolo, di acqua, di piante, di animali e poi anche di uomini e tiene aperto solo in maniera abbastanza efficiente, devo dire, l'ufficio, quello delle licenze edilizie, ti cadono le braccia, no? Voglio dire, perché... Ma dov'è l'ufficio del turismo o dell'agricoltura biologica se tu punti su questi settori strategici? E poi vedi... Ma, ripeto, qui potrebbe sembrare che... Ma perché la Regione ce l'ha? Perché la provincia l'ha mai avuto? Perché i comuni se ne occupano? Perché... Ma le associazioni dei produttori? Dio, c'è... Cioè, le associazioni dei produttori. Dio, ce ne scansi e liberi. Ancora peggio del parco. Non so se mi spiego. Cioè, noi viviamo all'interno di un sistema che si è deresponsabilizzato rispetto ai risultati. Perciò i dati vengono rimossi, no? Perché tu quei dati capisci che ha combinato, no? Abbiamo però due Ferrari. Il turismo è la dieta mediterranea. Sì, voglio dire, ma ripeto. E qui torniamo di nuovo al punto di prima, no? Cioè, il turismo, la dieta mediterranea, in un sistema ad alta intensità di conoscenza, che significano? Tu non dici, ma anche le lenghe dei musei. E si dicono delle bestialità sulla dieta mediterranea che ti fanno rizzare i capelli. No, cioè, si sono fatte delle cose assurde. Perché? Perché nessuno ha mai studiato. Cioè, abbiamo pubblicato il libro di Kiss, il primo libro di Kiss, con una frasca di oliva sopra, quando quella la prima volta non parlava bene dell'olio d'oliva. Cioè, ne parlava così e così. Diceva, prima vengono gli oli di semi, poi quelli di pesce, in una posizione intermedia. Pensate un poco. E per fortuna, in questo caso, che nessuno l'ha letto. Poi, oggi sono molto felice, perché è uscito finalmente il secondo libro di Kiss. Sulla dieta mediterranea, il libro che fa la sintesi della sua vita, quando va in pensione nel 75, e dice delle cose bellissime sull'olio d'oliva. Ma se qualcuno avesse pubblicato il primo, che pure è stato ristambato in mille copie della regione, noi saremmo finiti malissimo. Voglio dire, ecco, il turismo, ma io non capisco perché, per esempio, se tu vai sul sito della Camera di Commercio di Salerno di Napoli, non trovi l'elenco delle agenzie turistiche, sulla quale poi ognuno può lavorare, perché si lavora così nel settore turistico, a parte che oggi si lavora molto su booking.com, su queste cose qua. ma anche qui, cioè, il sistema fa acqua da tutte le parti, ovviamente, perciò dico, io non voglio gettare la croce addosso a Tommaso Pellegrino, perché è ingiusto. Il problema qual è? Ma noi abbiamo un sistema scolastico che ci porta verso il turismo in maniera agevole, cioè che forma dei quadri, per esempio, sul web marketing turismo, oppure dei semplici quadri che si occupino di informatica. Noi ancora teniamo l'unico istituto che lo fa, che sta il focaccio a Salerno, per cui un ragazzo del Cilento ne è escluso, cioè la scuola, il sistema scuola, non funziona per noi. Anche qui parlo con dati di fatto alla mano, ho avuto un incarico dalla, e li ringrazio per questo, dalla scuola media di Casalvelino, dall'istituto complessivo di Casalvelino, perché loro si sono giustamente preoccupati. Ma noi dobbiamo orientare i ragazzi verso il lavoro. Ma quale scuola poi li forma verso il lavoro? E quando tu puoi vedere, per il lavoro sul territorio, parlo del lavoro sul territorio, puoi vedere. Ma chi ci ha mai pensato? Questi qua di Casalvelino sono bravi, perché si è sello posto questo problema, ringrazio la Presidente, la professoressa Pinto, che mi hanno stimolato a lavorare con loro su questo territorio. Ma voglio dire, ma chi si pone questo problema? Capisci? Cioè c'è un sistema di de-responsabilizzazione, di... perché è facile dire, io perciò insisto su questo, è la colpa della politica, i politici... no, 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 qua... allora, la scuola, no? Forma all'individualismo oggi. Cioè, se tu vai bene, io ti metto un buon voto. Ma non forma, per esempio, al lavoro di gruppo. Ma le piramidi o lo sbarco americano in Normandia, non è che ha fatto una persona, no? Cioè, voglio dire, tutte le grandi realizzazioni umane, come si legge una fabbrica di automobili o una cooperativa o quello che vuoi, insomma, o questa televisione, ma si legge su un gruppo di persone, no? La scuola forma all'individualismo. Quindi, che significa l'individualismo? Che tu ti aspetti, questa formazione molto accentuata, significa che tu ti aspetti poi, da Tommaso Pellegrino o da Renzi o da chi vuoi tu, il miracolo, no? Ma bene, Berlusconi, e poi, ti accorgi, che quello non lo fa. Cioè, il miracolo, siamo partiti da Mussolini, tornando indietro. Cioè, voglio dire, ma, 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 ma il problema è che il tessuto civile, culturale, politico, eccetera, eccetera, deve reagire. Certo, la politica deve fare la sintesi, ma non più di questo. ci sono gli altri che debbono fare altre cose. Cioè, la vostra televisione è importante perché si occupa di questi temi, no? Ma, ma se non lo facesse, eh, beh, cioè, quindi, non so se mi spiego, no? Per cui, oggi, chi forma sul territorio all'informatica per il turismo o alle, o sulle nuove energie, per esempio, tutte le energie alternative. Per cui tu hai un bel istituto professionale che forma un ottimo idraulico che sa lavorare poi sui pannelli solari, piuttosto che sui sistemi delle altre energie rinnovabili. Eh, benedetti Dio, ma, insomma, io dico queste cose, oramai l'ho detta ai sindaci, ma fare una riunione solo su questo. Cioè, noi non possiamo tenere un sistema fondato sull'ignoranza, perché di questo si tratta, no? Cioè, per cui le scuole formano l'individualismo, formano il conformismo. Cioè, un ragazzo di una scuola nostra prende meno aria di un carcerato. Cioè, un carcerato per pene grave, comunque ha diritto a un'ora d'aria, no? Ma quali sono le scuole che hanno un orto didattico dove si studia la vita? No, cioè, è chiaro, allora, a questo punto noi formiamo delle persone che non hanno nulla a che fare con il loro territorio. O in quante scuole si approfondisce c'è la storia locale? Ma ripeto, ma anche in quante scuole si fa dell'ottima matematica per fare poi dell'informatica? Non ti nascondo che, proprio perché nessuno lo vuole fare, mi sono posto con alcuni amici il problema di fare un punto di formazione di questo tipo, di informatica per l'agricoltura e per il turismo. Noi ci stiamo lavorando, ma non è compito mio, capisci? Insomma, cioè, io sono un pensionato, voglio dire, ma è possibile mai che nessuno si occupi di questo? O se l'hanno fatto, cioè, e qua è la sintesi, però, prima della sintesi, le scuole che fanno? Cioè, si pongono l'interrogativo, come ha fatto Casalimini, per dire, ma come li formiamo per questo territorio? Cioè, capisci, insomma, no? Ho detto le scuole, ma, vedi, il problema è ancora più ampio e complesso, cioè, e attiene alle relazioni umane, cioè, le relazioni umane rispetto al secolo scorso in questo territorio si sono rinsaldate, o si sono affievolite, no? Cioè, noi viviamo oramai in un'epoca in cui, che è quella industriale, che è andata pure in crisi, oramai, per cui si parla di post-industriale, ma, voglio dire, rispetto a questo modello, noi abbiamo costruito scuole, ma anche rapporti umani, cioè, mi spiego meglio, noi dobbiamo non fare più nulla e comprare tutto, perché l'industria ce lo dà, per cui, una volta si faceva il pane nelle case, chi si dice, io sono venuto qua perché ho l'orto, il pane è fatto in casa, il pesce ogni mattina, ma l'orto non lo fai più, il pane non lo fai più, ma non ti fai neanche i concimi organici per la terra, attraverso il letame, noi per esempio li stiamo facendo con i microorganismi, fatti con l'etame, stiamo sperimentando tutte queste cose, ma voglio dire, ma, che significava farsi le cose? Significava poi scambiare le cose, per cui, il valore di scambio preveleva sul valore d'uso, oggi, la ricerca è dei soldi per comprare le cose, per cui, mi vado a far raccomandare, per pigliare quattro soldi, e mi compro il formaggino, e non faccio il formaggio con la capra e compagna bella, no? Cioè, è successo questo, no? E la parola capra mi viene in mente che abbiamo completamente distrutto la pastorizia, cioè, ma io voglio capire che senso ha un paese come Cambora, come Sacco, come Valle dell'Angelo, come, senza l'agricoltura e la pastorizia, no? Perché, voglio dire, anche se vogliamo fare del turismo, e poi portiamo un turista in un locale, in questi posti, e non troviamo che si producono i prodotti, perché non c'è nessuno che fa scicra, e allora scusate, ma, cioè, ma quello se ne va in Tailandia, dove paga 10 euro al giorno, vitto, alloggio, e 50 euro di aereo, cioè, voglio dire, la Tailandia sembra lontana, ma poi alla fine è molto vicina, no? Insomma, noi, perciò, questo, io, non a caso io parlavo di un lavoro, di un lavoro lungo, strategico, no? Cioè, noi abbiamo indicato una serie di cose, tipo, il fuoco prescritto, i sistemi anti-erosione costiera, le questioni dei rifiuti, cioè, una cultura del parco, non può fare a meno di Einstein, che dice che tutte le cose contengono energia, e allora, se è così, qual è il posto dove, o quali sono i posti dove i rifiuti si trasformano in energia in questo parco? E noi dovremmo essere un modello, un esempio, no? Cioè, ma io proprio per questo parlo quindi di voler bene la Terra, di alta intensità di conoscenza, di relazioni umane cambiate, cioè, io, la cosa che dico, dobbiamo fare un salto, una rivoluzione culturale, penso che oramai è fissata la data per il 10 febbraio dove noi rifletteremo su questo con il teorico italiano della decrescita felice Maurizio Pallante, l'abbiamo già fatto una prima riflessione, che decrescita non significa affatto decrescita decrescita economica, significa far decrescere tutte le cose che non vanno e far crescere quelle che invece sono felice, no, c'è un'altra parola, quelle che invece possono essere socialmente utili, possono, quindi, ma c'è bisogno, ripeto, di riflettere su questo e poi di organizzarsi su questo, ma, ripeto per l'ultima volta, ma c'è una deresponsabilizzazione che è collettiva, un popolo si è arreso, cioè, i sindaci dei comuni che perdono più del 50% della popolazione, non si sono mai messi insieme per dire, oh, ma fatemi un agriturismo in più in questa zona, no? Ne hanno diritto, perché non è che tu puoi andare a concentrare, tu pensate che noi viviamo in una regione che ha 365 chilometri di costa di cui praticamente quasi 340 oramai cementificati totalmente. Allora, voglio capire che dobbiamo fare? Dobbiamo distruggere questi altri 30 chilometri di costa che rimangono, pure questi? Eh, lo possiamo fare, per carità, non ce lo voglio dire, qua si è fatto tanto, quindi si può completare l'opera, no? Oppure qualcuno dall'interno si organizza e dice, guardate che qua non tengo più paese, ma non lo fanno, capisci, insomma, di quei sindaci e i cittadini, cioè la desesponsabilizzazione è collettiva, è diffusa, ci siamo arresi, allora io sto qua per dire che possiamo anche non arrenderci, Insomma, perché, e ti ripeto, e no, io rifiuto la cultura del capo espiatore, la colpa è di, no, di fronte a un insuccesso non bisogna mai giudicare, secondo me, ma bisogna invece cercare di capire quali soluzioni puoi trovare, che sono sempre complesse e faticose, che richiedono anni, cioè per imboccare un'altra strada, io non è che penso che mi ho detto queste cose domani mattina e chissà che succede, non succede proprio niente, però penso che se altre persone insieme a me e ci sono, si rimboccano le maniche per fare delle cose, ma noi più o meno insomma qualche cosa la tiriamo fuori, no, non è che facciamo i miracoli, ma qualche cosa si tira fuori in una certa direzione, cominciamo ad avere qualche soluzione e qualche risultato. a Grazie a tutti.